KERNELL Arsi nella tesi e quel che è peggio, il trocheo milluse, inevitabile sarebbe dedicare l'accento a corpi imprecisi dalle nette convulsioni, filo collegato tra coronarie e logica, l'incidente sta pronto sul collo, dietro la carotide, avremmo voluto un respiro differente spruzzando spruzzi a cavallo d'utopie, chicchi d'uva, grandi quanto una mongolfiera, usando pacottiglia letale, ubrade e clandestinità, sparando indecenze effimere, pullulare, fiacre, intormentiti sensori, tanta neve da esserne congelati, cella elettrica in tilt, straripa in anfiteatri circolari, sonni gravidamente inutili, punta la follia dietro le spalle, naturalmente per mancarmi, non ha centrato il petto, l'ho fregata